macchina che va presa a lasciare i concorrenti allo stacco velocissimo Luke MP che prova a sopravanzare le grese, si osce Luke MP al comando allora si presenta subito Orsia all'esterno era una delle possibili varianti tattiche così Orsia che attacca 13 con il lancio con Orsia che dopo 300 metri di corsa è al comando su Luke MP mentre pensa non c'è una corda per le grese precedere urbana gara New York New York con all'esterno il 400 di corsa in 28.1 per Orsia che ora c'è che miglare ma c'è l'attacco deciso di Loretus che a sua volta a passo e tiene il Vialida accompagna l'allenamento con Loretus che si presenta al 600 da leader in 42.8 molto sopposa con Loretus all'accomando 14.7 per quel paletto ora rimane scoperto all'esterno Bamagar che si prende in anticipo volentieri da parte di Meguense che a questo punto va deciso a rifare il gruppo per andare al fianco della battistrada Loretus 59.2 il passaggio agli 800 di corsa con Tommaso di Valenza e Loretus che cercano di gestire a questo punto al chilometro in 1.13 appena abbondante Loretus al comando nei confronti di Orsia Meguense all'esterno Luca Matti poi Obama Gar poi ancora Lester che in schiena Obama Gar quando si va ai tre quarti di miglio passati in 1.26.6 con adesso Meguense che va su Loretus e cerca di fare sul serio poi ci sono tutti gli altri l'errore di Orsi alla corda con Luca Matti che cerca di uscire fuori davanti c'è ancora Loretus con Meguense che provano in fila di dentro Obama che viene per l'esterno Obama Gar che attacca Loretus Loretus che allarga il sinistro Obama che ci prova poi anche Luca Matti nel finale Obama Gar che addicina Loretus ma è Loretus la fece d'Europa 2012 e viene a...